Stadio Franco Scoglio di Messina dove il Pescara non ha mai vinto, squalificato Raffia, ancora Out, Craia e Giabua, nel corso della rifinitura si è fermato Gozzi, quattro novità rispetto all'undici schierato ad Agropoli, rientro i cancellotti della squalifica, soprattutto Germinario a metà campo, seconda da titolare per il 2002 davanti Lescano e Colai nel tridente completato da Merola. Messina privo di Fofana per squalifica, in difesa Balde per Trasciani, a metà campo Conatè preferito a Mallamo, questa è la prima occasione, primo tempo condizionato dal vento fortissimo, Balde il suo destro, bravo Plizzani che vede il pallone all'ultimo momento e si rifugia in angolo, esterni Kragl e Lex Ragusa, riferimento in attacco centrale, Perez alle spalle appunto Balde che in fase di non possesso non molla Palmiero, quasi una marcatura ad personam, palla bloccata da Plizzari sul tentativo di Perez con deviazione di un difensore biancazzurro. Poi vediamo il Pescara che prova ad attaccare con Lescano, palla scaricata per Cancellotti, la rispinta e la destro di Germinario, questa forse è l'unica azione manovrata del Pescara in tutta la partita, un destro da buona posizione, non c'entra il bersaglio grosso, il classe 2002 prelevato dal Chisola in estate, il gol di Balde con deviazione decisiva di Besic che spiazza Plizzari, sfortunato lo Slovacco, tutto parte da una palla persa però centrocampo da Merola, poi la squadra biancazzurra si era già sbilanciata con Cancellotti che era andato nella metà campo avversaria, il pallone giocato dall'ex Ragusa, uno contro uno, occhi negli occhi diciamo così con Brosco, lato corto dell'area di rigore arriva a rimorchio proprio Balde, classe 99, il suo destro di incontro, la deviazione di Besic che spiazza il portiere Plizzari, 1-0 Messina al terzo minuto della ripresa per Balde, è il sesto gol in questo campionato con la complicità, sfortunato nell'occasione ripetiamo, di Besic, questo è l'unico tiro in porta del Pescara sul calcio franco di Palmiero, la deviazione probabilmente di Brosco, attentissimo, reattivo, il portiere Fumagalli, 41 anni, il prossimo 23 marzo, classe 82, se ne va, palla al piede, porta spasso tutti Balde, poi l'appoggio per Kragl che prova con il sinistro, il pallone però termina alto, fuori misura, il sinistro scoccato dal classe 69, l'errore di Besic, poi Kragl che non conclude, prova a servire il suo compagno di squadra Perez e rimedia lo stesso Mesic, dopo l'errore ha rimediato dunque il centrale zolovacco, che però era stato messo in difficoltà da una pallaccia, diciamo così, che gli era stata servita da Plizzari qui, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ci sono le proteste della Messina, la deviazione secondo l'arbitro è proprio di Perez, si riprende una rimessa dal fondo, il Messina attacca, fonda negli spazi, il destro ancora di Perez, è di Perez ex Giulianova, da gennaio a giugno 2011 in C2, 10 presenze, 0 gol, fa buona guardia a Plizzari all'altezza del suo palo di competenza, poi Zuppel che ha preso il posto di Ragusa, viene chiamato in causa, viene servito dallo stesso Balde, blocca a terra il portiere Plizzari, sugli sviluppi di questo calcio d'angolo battuto da Kragl, il colpo di testa del numero 5 Berto, con palla che termina di un soffio al lato, triplice fischio, dopo 5 minuti recupero, Pescara passivo, un Pescara deludente, pessima prestazione senza la cattiveria necessaria, prima sconfitta sotto la gestione Zeman.